Torna il mito della must-end di Steve McQueen usata nel film Bullet. Ford presenta la nuova must-end Bullet, lanciata accanto al modello originale e svelata dalla bionda Molly, nipote del celebre attore. Un ritorno in grande stile per una limited edition ispirata senza mezzi termini proprio alla macchina protagonista della mitica pellicola e di quello che ancora oggi è considerato il P. spettacolare inseguimento della storia del cinema. Tante, tantissime, quindi le citazioni storiche, la must-end Bullet limited edition una specie di campionario di quello che si può fare per ripotare in vita un mito. Detroit, Migenuari 14, M-O-L-L-Y McQueen, G-R-A-N-D-D-A-U-G-H-T-E-R-O-V-I-C-O-N-I-C-A-C-T-O-R-Steve McQueen. City. It is debuted the 2018 N-O-R-T-H-A-R-I-C-A-N-A-N-I-C-A-N-I-C-O-R-I-C-O-R-T-E-R-I-C-A-N-Y-C-O-R-I-C-O-R-I-C-A-R-I-C-A-N-I-C-A-N-G-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-A-R-I-C-O-M mix. The Show Ranks January 20-28. Bill Pugliano, Get Images, AFP uguale uguale for newspapers. Internet, TLCOS and Television News only uguale uguale si va dal pomello del cambio. Ovviamente manuale. Non si scherza qui. Di colore chiaro ha la tecnologia di regolazione del sound e dello scarico. Si chiama Active Valve Performance X-Host. Un sofisticato software che regola casse di risonanza e apre valvole particolari con l'incredibile risultato di riprodurre alla perfezione proprio la magica e gutturale melodia del V8 Mustang Giddle. 1968. Il colore classico Darky Giant Green. Sempre in omaggio alla vettura guidata da McQueen. Ci sono dettagli cromati per la griglia e per i finestrini anteriori mentre i cerchi sono neri. Certo, la meccanica e l'elettronica sono modernissime. Ma se il motore V8 5000 ha 481 cavalli. Sul quadro strumenti LCD da 12 quando giri la chiave appare una poetica schermata di benvenuto a Tema Bullet. Questa Mustang Bullet Limited Edition come Steve McQueen. Assolutamente cool. Ha dichiarato Darrell Bamer, chief designer di Mustang. Come designer, la mia Mustang preferita. Senza stripe, spoiler e badge. Non ha bisogno di alzare i toni per farsi notare. Semplicemente fantastica. E se un americano rinuncia alla Americanate vuol dire che lo sforzo produttivo è stato davvero grande. Altro su MSN. California. Auto a tutta velocità prende il volo e si incastra al secondo piano di un edificio. Corriere TV. Sponsorizzato Maggiore Maggiore 2 mesino maggio. Approfitta della promozione e installa la versione di Office P adatta a te. Download immediato Maggiore Maggiore.